salve a tutti bella gente benvenuti o bentornati sul mio canale io sono mansieri mia e oggi siamo qui in questo nuovo video come ogni giorno fino al 25 dicembre per andare a spacchettare quella che è la sedicesima casellina del nostro calendario dell'avvento è una scatolina lunga quindi andiamo subito a vedere anche se io ho un minimo sospetto ce l'ho e per chi ha visto il video di ieri capirà andiamo subito a vedere sospetto confermato mi sa che è un'altra matita andiamo subito a vedere di quale si tratta bello un bel rosso e vai super natalizio super bella sempre lei sempre della stessa linea quindi waterproof lip pencil la 124 cool red un rosso freddo quindi anche se non sembra così freddo in verità andiamo a sguacciarla subito vai sono bellissime super morbide anche quella di ieri era così bella morbida come come matita e poi il fatto che sia waterproof quindi a lunga tenuta mi entusiasma il colore effettivamente è un rosso abbastanza freddo sembra quasi tipo ciliegia ma non lo è vi avvicino un attimo dalla fotocamera in verità sfasa un pochettino perché più tendente appunto alla ciliegia che proprio a questo rosso che vedete voi qua si è un po più scuro ecco un po più freddo rispetto a quello che vedete voi in fotocamera poi il fatto è che è no transfer è fantastico adoro 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 follemente questa me la metto sicuramente ho vigilia capodanno natale tutte le festività del mondo vado a riporla nella scatolina così posso darvi appuntamento a domani con il prossimo video in cui spacchetteremo la casellina numero 17 che è lì eccolo la la volpina ci avviciniamo piano piano al natale quindi ovviamente stiamo trovando roba un po più a tema come questa perché secondo me fa proprio natale un rossetto così non c'è niente da fare guardate qua bello bello vi mando un grosso bacio e io vi aspetto domani ciao